Lucca si candida capitale per la promozione del ciclismo. Due i grandi eventi in programma per il mese di aprile del 2011. Si tratta di Lucca Bike, il salone interamente dedicato alle due ruote ed è la prima edizione della Gran Fondo Mario Cipollini, con il grande campione impegnato a valorizzare le bellezze del proprio territorio. Le due manifestazioni che per tre giorni animeranno la città sono state presentate venerdì sera in un noto locale di Forte dei Marmi. Lucca Bike nasce da una peculiarità del nostro territorio, quella dell'uso della bicicletta. Noi siamo al terzo posto a livello nazionale per l'uso della bicicletta dei nostri cittadini e di conseguenza da questa peculiarità nasce l'idea di fare un evento che abbia una risonanza a livello nazionale. La Gran Fondo Mario Cipollini che si snoderà in tutti quelli che sono gli angoli della Lucchesia. Sforeremo un pezzettino anche in Versilia, per cui partendo da Lucca faremo Monte Chiesa, faremo Monte Pitero, ritorneremo in Freddana e da lì il corto si lancia su Lucca. Sicuramente è una bellissima iniziativa, una bella idea, è un marchio forte, un marchio che certifica, quello di Mario Cipollini, un grande campione che ha grandissimo entusiasmo, competenza e professionalità. Entusiasta il sindaco di Lucca, Mauro Favilla. Noi uniamo a questa manifestazione fieristica, uniamo a questa manifestazione sportiva curata e promossa da Mario Cipollini che vedrà coinvolta in questa grande maratona un'infinità di persone. Quindi sarà una grande festa per la bicicletta a Lucca. La Gran Fondo Mario Cipollini è in programma per il 17 aprile. La Gran Fondo Mario Cipollini è in programma per il 17 aprile.